Allora, io è difficile che faccio questa specie di intervista, questa cosa di connettere con degli amici. Io non ti conosco. Come ti chiami? Ah, Maurizio. Maurizio Salerno. Maurizio Salerno. Come ha mio compadre Salerno. Ma io di Palermo è. Ed è il capo. Perché io sono mio compadre, vengo Salerno. Comunque Maurizio, andiamo avanti. Questa cosa la sto facendo perché tu c'hai una sorella che si chiama come mia sorella, Anna. La sorella si chiama Anna Maria. Presumo che anche tua sorella si chiama Anna Maria. Ma a prescindere le Anne e le Marie, che minchia poi? No, voglio dire, come scappo, dico, cosa posso fare per te? Io so che tu sei un fan mio. Ma di chi? Ma di chi tu hai questo fan mio? Quando gli siete dentro, non c'è l'uncino di paradiso, non c'è il cavallo, non c'è la vita. Caccia Canale, Rascia Perez, Britti Cattolano Maria, Britti Cattolano Maria, Britti Cattolino. Io non ci sono. Ci sono in questo momento e sto parlando con te, ma non ci sono. Franco, detto Maurizio, oppure Maurizio detto Franco. Ora, quattro di città in passaggio comunale partita del Mondiale. Brasile e Giappone. Abito il signor spettatore, spettatore in quantità. Io so solo e sono l'amato. Brasile e Giappone ricordano che mi comunichiamo le informazioni che oggi sapesse la città in campo. Giappone, Pinocco, Lo Scatoce, Cacce, Pettolore, Seggigno, Carini, Mutini, La Pazze, Britta, Samarazzi. Giappone. Samarazzi, Camuteta, Cuncai, Yoko, Focco, Maiocco, Rino, Supermura, 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 Supermura e Bunecchia. Cimpincio, Sciacce, Succhi e Cussi, Succovo la mattina. Noi, l'altro dice, cacca poco, noi, quattro dice per sermoso. Buon Natale, buon Piero Maggio, buona Pasqua e buon Cosa e Baccia. Viva la vita!